Marco Marchi, fondatore e CEO di Liu Jo e amministratore di Eccellenze Italiane Holding. C'è un video, eccolo qua. Eccoci qua, Marco, ben arrivato. Grazie, grazie dell'invito. Grazie. Magari due parole su Liu Jo. Voi siete ormai uno dei gruppi italiani della moda, posizionato in un segmento, possiamo dire, lusso-accessibile, non so come vogliamo definirlo oggi. Anzi, com'è nata questa avventura Liu Jo? Come siete arrivati fino a qua? È una storia lunga, lunga. Intanto nasco da un distretto carpigiano dove ovviamente vi è una cultura di imprese, soprattutto del tessile. 27 anni fa io avevo prima una piccola azienda che lavorava per conto terzi, e quindi faceva private label per diversi brand sia italiani che all'estero. Poi capì, ci fu un momento storico, secondo me determinante, nella mia scelta che fu durante l'accordo di Marrakesh, del WTO, dove praticamente in quel momento venivano tolte i dazi sulla Cina. Ed era evidente che un mercato che stava crescendo col 50% degli investimenti nel tessile in quel territorio con un prezzo, o comunque con un costo della mano d'opera che era forse un decimo di quello in Italia, capì in quel momento che non poteva esserci una storia, una possibilità per me di continuare il mio percorso di private label e quindi di produttore. In quel momento ho deciso nel 1995 di iniziare il mio percorso prendendo inizialmente quello che è la mia anima, cioè il mondo della maglieria, perché vengo da quel distretto. Poi via via ci siamo strecciati fino a diventare oggi un'azienda che sviluppa quasi 500 milioni di fatturato e ovviamente ha diverse progette all'interno del proprio portafoglio e quindi diciamo che siamo un brand a tutti i difetti Lifestyle. Quindi 500 milioni di fatturato tra l'altro con un 20% di EBITDA, quindi insomma siete un'azienda remunerativa. Avete anche l'uomo, siete una delle poche brand donna che è riuscito secondo me ad allargarvi sul segmento uomo. Come sta andando? Beh allora diciamo che noi abbiamo anche anticipato una possibile acquisizione e oggi possiamo dichiarare che siamo nelle fasi finali dell'acquisizione di Cocama che è un'azienda che ha contribuito vista la sua esperienza nel segmento dell'uomo provenendo ovviamente da una regione straordinaria come la Campania abituata e abile in questo tipo di settore e quindi grazie al successo perché insomma non dimentichiamo come tu hai sottolineato che oggi essere credibili in un segmento maschile quando uno ha 25 anni di storia nella donna non è semplicissimo. Non ci sono tantissimi esempi da citare ma diciamo che grazie a questo rapporto e questo talento che è stato evidenziato da oggi il mio socio nell'uomo ha un fatturato di 70 milioni e quindi lo andremo ad acquisire nel prossimo mese e questo permetterà ovviamente all'azienda stessa di proiettare questo segmento ovviamente ad obiettivi ancora più ambiziose. Senti abbiamo parlato di New Normal di The Stocking ecco qual è la tua visione oggi del mercato della moda in Italia e anche così in un settore più ampio diciamo che non è semplicissimo come domanda io quello che posso dire per quanto mi riguarda che guardo con grande attenzione quelle che sono ovviamente le proiezioni e molto spesso le previsioni sono fatte anche per essere smentite ricordo dieci anni fa quando alcuni esperti del settore dichiaravano la polarizzazione dei mercati non vi poteva essere un segmento premium in quanto la polarizzazione indicava che il lusso avrebbe attratto un certo tipo di consumatore il mass market avrebbe via via eroso la parte ovviamente che oggi io rappresento beh insomma noi oggi siamo qui ovviamente sulla scorta di un 20% un 21% in più dell'anno prima quindi noi siamo la dimostrazione tangibile che invece esiste quel mercato ed è un mercato che vive sulla scorta di un'area che viene da una parte lasciata dal lusso che sta anche polarizzando scusate il gioco di parole verso prezzi che diventano sempre più insostenibili e dove chiaramente indipendentemente dalla forza e del potere d'acquisto del consumatore vi è un senso di moralizzazione verso l'acquisto stesso del prodotto c'è un valo formone che oggi va tanto di moda ma che esiste a tutti gli effetti e poi siamo il primo segmento aspirazionale verso chi comunque trova nel progetto del premium un momento di gratificazione come ottenere questo tipo di risultato non è semplicissimo è quello che io sostengo è che bisogna essere coerenti bisogna costruire uno storytelling che abbia un suo senso una sua credibilità il prodotto è importante ma oggi non è l'elemento fondamentale crediamo fortemente che questo percorso onesto verso il nostro consumatore offrendo allo stesso ripeto contenuti veri onesti e uno storytelling che abbia consistenza sia un piccolo segreto del nostro successo chiarissimo e nei prossimi tre anni dove vedi le linee di sviluppo di di Lugio retail all sale mercati anche questa è una bellissima domanda devo dire che io credo che l'operazione mista che in qualche modo Lugio rappresenta sia la scelta migliore ci sono aree dove il retail diretto quindi il DOS diventa indispensabile per motivi di costi per motivi di chimoni per motivi legati a tutta una serie di elementi economici ce ne sono altre invece dove l'attività del multimarca qualificato e che ha un rapporto estremamente stimolante col proprio consumatore molto intimo abbiamo parlato prima di quanto oggi il valore dell'acquisto e l'esperienza di acquisto sia importante è evidente che chi oggi ha un'esperienza nel retail è qualcosa che non si può imparare in pochi giorni e che volte e lo dico con molto onestà non sempre i nostri impiegati all'interno dei nostri negozi abbiano quel tipo di cultura ed esperienza quindi noi crediamo che l'operazione mista sia sicuramente un giusto mix quale sarà il futuro insomma io credo con eccellenza italiana di aver indicato un percorso credo in Italia abbiamo straordinarie realtà che per motivi legati alla finanza motivi legati alla politica motivi legati a una serie di complessità di cui credo noi cittadini di questo paese conosciamo tocchiamo con mano ogni giorno ci sono dei talenti che credo abbiano bisogno e necessità di costruire un rapporto sinergico verso piattaforme che possono dare ed esprimere le loro grandi capacità noi con grande umiltà ci poniamo come un soggetto possibile di aggregazione e devo dire che l'esperienza anche di Blue Marine ci insegna che lavorare e forse anche l'esperienza più grande più importante e più virtuosa dei francesi ce lo indicano e ce lo sottolineano sia una strada sicuramente che l'Italia può fare e che in piccola parte eccellenze italiane può in qualche modo fare esatto hai introdotto eccellenze italiane magari spiego voi avete creato una holding separata diciamo da Lugio quanto tempo fa è nata eccellenze italiane è nata poco prima dell'aggregazione di Blue Marine quindi nel 2019 quindi è nata con l'obiettivo di creare un polo di aziende italiane dell'eccellenza e il primo acquisizione è stata Blue Marine e quali sono i Blue Marine opera un segmento un po' diverso da Lugio quindi credo che sia stata anche un'attività nuova per te quali sono state le difficoltà quali sono le difficoltà e gli spunti che magari è anche travasato su Lugio interessante questa domanda ma devo dire allora dal punto di vista proprio oggettivo inserirsi in un segmento e in una sfida che ha delle logiche completamente diverse non è stato facile devo dire che l'amore che io ciò che mi ha portato all'acquisizione di Blue Marine è qualcosa che va ovviamente anche a qualcosa che tocca il mio intimo la mia storia il fatto che producevi da ragazzino no 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 è chiaro che Blue Marine ha una storia di 45 anni nata a Carpi dove io sono nato ed è chiaro che è stata per tutti noi un punto di riferimento a cui ci siamo ispirati e poterla acquisire per me è stato un atto d'amore oltre che ovviamente un progetto industriale sono due segmenti completamente diversi chiaramente l'approccio è non semplice però credo che la contaminazione nei vari segmenti possa essere un grande valore aggiunto ho capito tante cose ho capito che cosa vuol dire fare lusso ho capito che cosa oggi sono gli elementi gli ingredienti per essere credibili di quanto sia importante lo storytelling di quanto il prodotto è un elemento importante ma non fondamentale del successo in quanto occorre costruire soprattutto per le generazioni Z di cui abbiamo visto in precedenza sono ovviamente consumatori molto sensibili quanto sia importante costruire storie credibili forti e aspirazionali e credo che tutto questo tipo di assunzione che ho fatto in questo periodo non semplice perché insomma non dimentichiamo che ho acquisito l'azienda nel periodo del covid e insomma e devo dire che quello che stiamo vedendo in quest'ultimo periodo è estremamente complesso però per me è stato molto interessante perché ho compreso che anche nel segmento del premium i codici del lusso possono essere assolutamente presi e reinterpretati quindi ben venga la contaminazione io sono assolutamente un fautore e credo anche un sostenitore di questo tipo di percorso e altre operazioni all'orizzonte su eccellenze italiane cosa come la vedi come sviluppo ma diciamo che il momento è estremamente complesso insomma io ho visto con grande interesse i numeri che sono ci rincuorrono e ci rassicurano su quello che sarà il futuro ciò nonostante credo che ognuno di noi sia consapevole del momento particolare che stiamo vivendo l'inflazione le guerre non una le guerre gli aumenti dei tassi di interesse insomma devo dire che è una congiunzione astrale tra le più negative che io conosca all'aumento scusate anche delle temperature perché ci troviamo in un inverno in Europa con temperature ma credo anche della stessa Cina altissime che hanno inevitabilmente in un momento di grande complessità economica reso i consumatori più sensibili e più attenti è evidente che è un momento secondo me di grande passaggio un momento storico che ricorderemo e anche secondo me di cambiamento cambiamento un po' per le vecchie aziende con generazioni che probabilmente non hanno più la voglia il tempo e le energie per potersi rimettere nuovamente in discussione e aziende che invece sulla scorta di una selezione naturale e anche di un market share che ognuno di noi cerca in qualche modo di acquisire credo ci saranno delle interessanti evoluzioni in queste possibili evoluzioni è chiaro che un'azienda come la nostra che comunque rappresenta un'azienda solida dal punto di vista economico capace di poter affrontare nuove sfide guarda con interesse quelli che possono essere nuovi campioni che possono in una logica sinergica affacciarci in un progetto ovviamente di collaborazione quindi Blue Marine non rimarrà l'ultima operazione di eccellenza italiana no ci auguriamo di no è chiaro che in questo momento ogni azione deve essere ben ponderata perché gli scenari davanti a noi non sono scenari particolarmente sexy quindi ci sarà un approccio prudente va bene grazie Marco grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi